L'imperfezione è una cosa che c'è, esiste, però l'abilità del sarto è quella proprio di creare da un difetto un effetto, cioè un movimento che possa risultare piacevole alla vista. E' un calcio che non esiste più, il suo pantalone ormai è stato messo in giro. Ognuno ha un suo modo, penso che è un po' possibile anche i vari tagli, le varie cose, però quello che fa la differenza è l'allaborazione, come tu segni una linea di fianco oppure come stile con il ferro, e questa è la differenza, è molto semplice. La seconda volta che vado a consegnare il vestito, perché se consegniamo il vestito significa che l'abito va bene, se l'abito non va bene, noi lo consegniamo. E' un'irrò, e' un bello di saldo, ok? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ti entra un poco nel sangue e ti rendi conto che la piacevolezza nel fare le cose come si facevano vent'anni fa e come le faceva prima mio padre è una cosa che non ti puoi allontanare. Lo fai sempre allo stesso modo e continueremo a farlo sempre allo stesso modo. Grazie a tutti.